E quello è stato l'ultimo articolo. Buongiorno. Signora, Giuseppe, quando c'è l'amore anche le giornate sembrano più belle. Sempre spiritoso tu, eh? Ecco, vuoi, è de natura che sono così, signora, Giuseppe. Sai una cosa bellissima? Non ho più paura di quello che pensano gli altri. Oh, brava, finalmente, così mi piace. Beh, sì, perché da quando lo sa mia figlia, degli altri non me ne importa più niente. Niente, niente, niente. Mamma, posso andare a fare il bagno? Certo, andate pure, ma non tardate. Ti dispiace? No, no, figlio. Grazie, ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. È strano. Graziella ci tiene a considerarti un padre. Hai notato? Già.